Mi presento, mi chiamo Chiara e oggi vi faccio vedere la mia presentazione della mia collezione delle Sailor. Iniziamo a vedere Sailor Moon, guardatela è come carinissima, è molto carina perché è dietro, è bella col fiocchettino anche davanti e ha dei scarponi molto carinissimi, delle codine, tutta bella con i capelli meramente così, tanto biondi, una luna qua sotto come piedi di cristallo e poi è tutta con lo scettro, tutta carinissima e ha tanti dettagli, troppi troppi e guardate quanta bella ha, troppi dettagli e troppo carini, tutti bene sono dettagli e guardatela, ora vi presento Sailor Mercury che è lei, guardate che è come carina, anche lei direttamente, guardate che dettagli molto carini per Sailor Mercury con le onde qui sotto, il piede e il piede in su e guardate come è carina, carinissima. Ora vi presento Sailor Mars, ora guardate come è carina invece Sailor Mars con questo bigliettino e guardatela come è carina e ha tanti capelli neri, il suo simbolo, tutte le altre hanno... e le fiamme, guardate sotto e sopra e ha anche tanti dettagli guardate anche lei, guardate anche lei, i dettagli e anche lei, addirittura anche lei, un piede sopra e un piede sotto, ma vabbè ora vi presento Sailor Jupiter, eccola qua, guardate come è carina guardate come è troppo carina, ha le scarpette magichissime, bellissime volevo dire e guardate anche lei, i fiocchi, ovviamente tutte hanno i fiocchi, e guardate come è bella, proprio anche lei nudetta, ma però solo come le altre. Ora vi presento Sailor, la ultima Sailor, che è Sailor Venus, guardatela come è bella, pure lei Sailor Venus col fascio di luce molto carino, che è veramente un fascio, carissimo, carissimo sto fascio, bello e carino e carino, perché ha una base tipo di cuore, anche tutti gli altri hanno la base, ma però stavolta vediamo quella di lei e anche quella di lei, abbiamo già visto lei, e i dettagli sono proprio carini, i capelli sono sempre più lunghi di quello di Sailor, di lei, di Sailor, di lei, che si chiama Sailor, di lei, di Sailor, di Sailor lei, e di Sailor, che è veramente così carino e guarda come è carino, e adesso vi saluto, e dopo passiamo alle altre